Caltanissetta è la città in cui gli affitti sono i più bassi d'Italia. Il dato rilevato vede infatti il capoluogo siciliano con il costo medio di 218 euro mensili per il canone d'affitto di un appartamento di 110 metri quadrati contro i 600 euro di Catania e 450 euro di Palermo. Varcato lo stretto gli affitti più salati sono quelli di Roma 1450 euro seguita da Milano con 1300 euro e Bologna con poco più di 900 euro. A chiedere attenzione sul tema è Ivana Veronese segretaria confederale UIL l'Unione Italiana del Lavoro che si rivolge al nuovo governo per soluzioni celeri su rincari ed emergenza abitativa. Il fatto oltre gli aumenti di luce e gas è il costo. Di fatto oltre gli aumenti di luce e gas è anche il costo dell'affitto a lievitare di un 8,1% in più. Secondo l'ultimo indice FOI, prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'Istat, si prevede un aumento già di fatto riscontrato dallo scorso agosto. Così un affitto medio di 538 euro mensili si prospetta su quello un aumento di 32,70 euro al mese e si traducono in 392 euro all'anno in più. E se in Italia il canone d'affitto è di 538 euro mensili, saranno 6450 gli euro annui, vale a dire un costo di incidenza per un 19,9% sul portafoglio delle famiglie. Per questo motivo la sigla chiede al nuovo governo di rimettere al centro del dibattito politico il tema della casa, di affrontare con rapidità sia le emergenze astratti e di valutare l'introduzione di risorse sufficienti per un piano di medio-lungo periodo in grado di incrementare in modo consistente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di aumentare sensibilmente le risorse del fondo per il sostegno agli affitti e per la morosità incolpevole.